via col pack opening ragazzi via col pack opening trovate una marasma di video su youtube nei prossimi giorni ne sto montando un sacco uno al giorno ve ne carico uno al giorno come comincio a caricare le carico uno al giorno ve ne carico uno al giorno prima di tutto ci hanno regalato il buon cesc fabregas gioca nella s monaco per le statistiche giocatore sempre buono sempre verde bo una carriera un pochino diciamo sotto le sue possibilità diciamo poteva poteva fare meglio il buon il buon cesc avrei potuto fare meglio sicuramente diciamo che non è stato molto molto fortunato anche a livello di infortuni mi ha detto male perché dopo che si è rotto un pochino ha avuto un po di problematiche turi a quanto pare si a vendere il cocco fabregas ma no era forte faber cesc era forte era forte ok ragazzi poi abbiamo la club stelecson detto così è proprio si pronuncia in questo modo del man blue ovvero il city ragazzi allora vediamo un po che cosa c'è de bruin io ce l'ho già maxato non mi interessa sterling sarebbe buono per maxarlo tra l'altro siamo come paroli siamo più o base la porto non mi interessa rodrigi sarebbe buono per maxarlo a che va gattissimo quindi sarebbe tanta roba e ferran torre sarebbe finalmente un cld valido oltre adatte boer per sostituire beccam bravo marco bravo diglielo diglielo che qui bisogna rubare qui bisogna rubare proseguiamo quindi ragazzi vediamo un pochino se scuriamo anche oggi non c'è da ricciarci il baffo stiamo pescando dal city ragazzi e mancino preso preso cominciamo benissimo super difensore a che tra l'altro mancino vecchiuro non ce ne sono tanti non ce ne sono tanti non ce ne sono tanti difensori mancini forti bravo marco dedicato a te vedi marco ti sta dicendo top30 mi hai chiamato mi hai chiamato mi hai chiamato mi hai chiamato mi hai chiam ma mi chiamano in che senso il che senso mi hai chiamato chiedo scusa a tutte le chiavi che stanno guardando questa live lo blocchiamo lo blocchiamo adesso proseguiamo allora qua a che lo volevamo ciao pacco buongiorno benvenuto finalmente il capo dei moderatori è tornato è tornato il capo dei moderatori abbiamo già pescato bene pacco quindi adesso ci vuole una bella pescata la malgioglio l'abbiamo chiamato l'abbiamo chiamato questa è la malgi questa è la malgi questa è la malgi preso preso lo maxiamo lo volevamo è fortissimo pacco il mostro l'abbiamo pescato anche noi al primo giro vai vai preso convertito così maxiamo quello che abbiamo già ciao sterling grazie per la tua partecipazione molto 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 importante e adesso sarebbe bisognerebbe finire bene con Ferran Torres che sarebbe un ottimo CLI oppure con Rodri perché se peschiamo Rodri lo diamo sopra all'altro vediamo un po' yeah yeah e ma allora e ma oggi cos'è e ma oggi cos'è e ma oggi cos'è ma oggi si pesca benissimo ma che cosa ragazzi chiudo la live e vado a giocare i numeri all'olto che c'è l'estrazione il 6 gennaio ciao ciao ci vediamo eh alla prossima ciao ciao roblez bro today I'm very lucky I have taken the 3 players that I won in city now I hope that I will I will take the same good players in Tottenham in Tottenham Packet mannaggia oh ciao Rodri grazie per la tua partecipazione andiamo a maxare il tuo fratellino ok allora Tottenham ragazzi Tottenham 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 allora allora c'è mamma mia ecco ecco questo lo vorrei Sanchez ragazzi allora del Tottenham vorrei Sanchez non bere anche gli Oris perché veramente mi ha impressionato ieri quando abbiamo fatto il Fox Thousand Tournament ragazzi è stata una cosa allucinante ci ha fatto delle parate clamorose ciao Vinturicchio buongiorno ciao Gappo come va Whatsapp Telegram Facebook Instagram mamma mia Robles mamma mia virus di M maledetto maledetto speriamo che we all hope that this cure that the scientist have found it will be good we hope that the vaccine vaccino il vaccino dai Carlo Conti deve essere abbronzato 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 non è abbronzato mi sa che Dyer non è niente di che questo non mi dia che che perché l'ho preso 50 volte basta son ma ce l'abbiamo ma ce l'abbiamo già maxato mi sa cacchio non lo so forse qualche livello li manca comunque possiamo convertirlo e vedere comunque sia non importa ce l'abbiamo già non è male non è male non è male non mi ricordo forse il destro son ok adesso lo vogliamo scuretto però deve essere deve essere scuretto deve essere scuretto deve essere scuretto deve essere scuretto ci sta ci sta Robles ci sta scuretto 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 yes yes preso il tripede il tripede sanchez alla corte di alonso gray fox vamos il tre piedi ok adesso manca dombele adesso manca dombele manca dombele manca dombele manca dombele manca dombele dai un altro scuretto dombele dai lo voglio la vita che conseglie del re perfetto dai 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 no no niente eh oh era a chiedere troppo di nuovo son mi sa eh si di nuovo son va bene va bene è andata bene 5g 5g allucinante il sesto non poteva essere eh dai su tamo 6 check it di nuovo di nuovo di nuovo Grazie a tutti.